Vabbè una diretta del Paltry Gold Gregory Paltry 1500 attenzione Freestyle stile libero Il nostro Greg Eccolo al giro E' esattamente primo in quarta corsia Solitaria senza nessuno E' tipo la gara più facile della sua vita Eppure un'olimpiade In pochi posso dire così E' la fine Attenzione Greg è partito facile Mamma mia In solitaria proprio Ma te lo sai quant'è dura? Amore Bacco al culo Tu casa stop C'hai ragione Io no Non so a casa So qui a Rio Comunque domenico Grazie Paolo Ciao Nicola Gregory è first Eccolo Passaggio primo Secondo c'è l'australiano E terzo americano Non so Detti Aspetta che ve lo dico Detti è sesto Io ve lo inquadro raga E poi dopo Cioè sta letteralmente Stracciando gli avversari Guardate Lui ha girato da mezz'ora Gli altri ancora Cioè sembra le cinesi nei tuffi Uguale la differenza Grande Greg Piccolo stadio intanto Vai Greg Un oro olimpico in diretta Durerà un pochino sto video Ciao Paolo Grande Ciao Alessandro Ciao Valentina Dove sei? Qua nella piscina? Grande Paolo Eh purtroppo Ci rifacciamo a Tokyo 2024 Ragazzi Siccome questa gara Dura un botto Io vi rifaccio la live Tra più o meno 5 minuti Perché mancano ancora 7 minuti E È un po' noiosa così Ci rivediamo tra poco Con Gregory Pat Ciao ragazzi